Riuscite ad esprimervi nel modo più convincente e appropriato? Quale importanza hanno l'immagine e la comunicazione per il vostro successo? Bravi comunicatori si nasce o si diventa? Si racconta che il grande estatista Winston Churchill, una sera mentre era a tavola con altri commensali, ricevette l'immito di tenere un discorso. Nonostante la richiesta fosse improvvisa, lui si alzò in piedi e, rivolgendosi ai presenti, pronunciò parole che affascinarono e nel contempo impressionarono. Al termine del suo intervento, l'uomo politico non ebbe alcuna difficoltà ad ammettere che non c'era stata alcuna improvvisazione. Ammise che il discorso se l'era preparato riscrivendolo addirittura cinque volte e lo aveva anche pronunciato tre volte davanti allo specchio. Sempre con maggiore frequenza i personaggi pubblici, siano essi politici, manager e professionisti, sono tenuti a tenere discorsi in pubblico, rilasciare interviste radiofoniche e televisive, presentare progetti a persone interne ed esterne alla propria organizzazione e questo nell'ambito di riunioni, seminari o incontri pubblici. Creare un proprio stile comunicativo è indispensabile. Ottimizzare la comunicazione, utilizzare il linguaggio più appropriato e gli strumenti più adatti e strategico per ottenere buoni risultati. Per molti l'imbarazzo davanti alla platea, agghiaccianti vuoti mentali davanti a un foglio bianco o a un microfono possono trasformarsi in vere e proprie disfatte. Nel libro ci sono tutti i suggerimenti per evitare che ciò accada e soprattutto per instaurare un buon rapporto con i mezzi di comunicazione e più in generale con il proprio pubblico di riferimento. Questo libro è un piccolo manuale da leggere e da rileggere e ricco di teorie, tecniche e strumenti per comunicare. Sempre chiari e convincenti spiega quali sono i meccanismi che regolano la comunicazione con i media, cos'è una notizia, come si scrive un comunicato a stampa, come si prepara un discorso e come si organizza un evento. Il tutto con esempi pratici e un linguaggio estremamente chiaro. Sempre chiari e convincenti è utile a parlamentari, sindaci, assessori, consiglieri comunali, aspiranti politici, addetti stampa e consulenti, ma anche a quanti vogliono semplicemente approfondire un tema che suscita da sempre grande curiosità. Un caro saluto e una buona lettura da Antonello Zitelli. Grazie. Grazie.